...generali in corsa a queste europee, il suo collega Vannacci, sia pure di altra arma e di altra impostazione politica. Credo che ha il diritto, come tutti i militari, come tutti i poliziotti, come tutti i cittadini a esprimere liberamente il proprio pensiero in qualunque ambito. Poi quello che lui dice io penso esattamente l'opposto, il contrario, io sono l'opposto di quello che pensa lui e lo dimostro con la mia vita, non perché mi contrappongo a lui, perché anzi ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte, io credo nell'uguaglianza e nella fratellanza, non solo nell'uguaglianza delle persone e dei diritti, credo proprio nella fratellanza, credo che non dobbiamo avere paura della Cina, non dobbiamo avere paura della Russia, dobbiamo cercare le cose che ci uniscono come umanità. Poi se non mi fa piacere che il sindaco di Terni ha grandi risorse a Terni, ma purtroppo altri sindaci non ne hanno e sono in miseria, è bravo, benissimo, e gli faccio i complimenti. Tanti comuni non hanno la sua bravura, la sua capacità, eppure non li vogliamo abbandonare, non li vogliamo lasciare nell'abbandono in cui lo hanno lasciato queste classi dirigenti, queste classi dirigenti li hanno lasciati nell'abbandono, io sono stato in Calabria, ho visto una situazione di bastante, l'abbandono assoluto, assoluto, e questa è una cosa triste, noi difenderemo i comuni, tranne quello di Terni che è autonomo e lui porterà il benessere a Terni, avrà trovato risorse fantastiche, noi difenderemo i territori, non abbandoneremo nessuno, anche in quelli che sono incapabili, io sono un capitano e ho dato la mia vita per il suo comune e per la gente come lei che ha fatto soldi, con i suoi 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 soldi, fermatevi, 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 quando il dibattito si scaldava il mio tempo si è esaurito, ringrazio Marta Grande, Stefano Bandecchi e Sergio De Caprio, il capitano ultimo, per questo come si vede dibattito anche forte in qualche momento, c'è Coffee Break, ci vediamo domani mattina alle 8 con Omnibus, grazie, arrivederci.